Mmm, è com'è buono sta calamarata! Iniziamo a friggere le melanzane tagliate a cubetti in olio di semi. Le scoliamo per far assorbire l'olio. Tagliamo i pomodorini. Puliamo il pesce spada e lo tagliamo a cubetti. Caliamo poi la pasta. In un'altra padella facciamo soffriggere uno spicchio d'aglio. Aggiungiamo il pesce spada e lasciamo cuocere per un paio di minuti. Sfumiamo con del vino bianco. Mettiamo da parte il pesce spada e aggiungiamo i pomodorini. Un pizzico di sale. Uniamo poi la pasta al sugo. E aggiungiamo le melanzane e il pesce spada. E mo' buon appetito!